L'adagio, questa musica che abbiamo scelto stasera in copertina, segue il messaggio che ieri Spalletti ha dato dopo la conferenza stampa. Andare ad agio, andare avanti con calma, senza grandissime pressioni, con la consapevolezza però di essere una grande squadra. Abbiamo ancora negli occhi la gara di ieri sera. Io ero tra i fortunati allo stadio e devo dire che una partita del genere, beh, erano anni e anni e anni. Che non la vedevo così. Un cordiale saluto a tutti amici telespettatori, buonasera, bentrovati al consapevolezza appuntamento con tifosi dalla luna. E come ogni giorno dopo la gara di campionato e di coppa ci colleghiamo con il collega e amico Raffaele Tagliamonte. Ciao Raffa. Fratello mio, ma sembra che forse stai dispiaciuto per la regina. Ti vedo un po' giù, ti vedo un po' bacchiato. No, è talmente la gioia e l'emozione che cerco di controllarmi Raffaele. Ah ecco, perché io non mi controllo, nel senso che è stata una serata così incredibile e poi soprattutto venivamo già da una vittoria importante e bella del campionato. E soprattutto perché abbiamo visto Napoli increscendo. Un po' la musica che è messa sotto, l'ataggio, cioè che va increscendo quella canzone. Così anche il Napoli sta andando increscendo a discapito, a dispetto di quelli che pensavano di vedere un Napoli. Non so come, non so perché, però diciamo la verità che questo Napoli e anche questa dirigenza, che possiamo dire qualsiasi cosa, però quello che hanno costruito e messo su è inopinabile. Non si può dire nulla, poi possiamo risentirci di ogni cosa, ma al momento questo Napoli ci sta levando delle belle satisfazioni. Soprattutto, Angelo, e ribadisco sempre questo concetto, per il calcio che abbiamo visto e che stiamo vedendo. Perché a me interessa soprattutto quello, noi siamo dei fini, come dire, a me piace proprio il calcio. Il calcio, il calcio... Sì, ti seguo, ti seguo, solo che forse sei un attimo tolto il collegamento tuo video. Sì, indubbiamente ieri è stata veramente una partita incredibile, una partita che abbiamo vissuto veramente con intensità. Anche chi era allo stadio si è emozionato, penso che era a casa. Uno spettacolo straordinario. Sentiamo Spalletti, subito dopo la gara conferenza stampa, come di consueto facciamo dopo le partite, è divisa in tre parti. Vediamo la prima parte. Ragazzi, bisogna essere lucidi. Goduto sì, perché abbiamo fatto una... Prima di tutto abbiamo fatto il Napoli contro una grande come il Liverpool e questo è fondamentale. Poi bisogna essere lucidi. Non andiamo a cercare situazioni al di là di quello che è corretto andare a trovare. È una partita che si può fare se c'è l'atteggiamento corretto della squadra. Il rispetto lo dicevo soltanto proprio per la postura che era diversa rispetto al solito. Allora per quello sì, perché poi lì sto più comodo, sono più seduto e riesco a gioire meglio. A gioire di contentezza, perché poi dentro il risultato di questo genere qui tu ti rendi conto di fare felici tutte quelle persone che nuovamente hanno riempito il Diego Armando, che sono venuti con tanto entusiasmo, che è un po' che aspettano di giocare queste partite qui. Per cui si sa quello che è il loro entusiasmo a vivere queste situazioni e tu sei contento perché tu li vedi felici e tu li senti felici. Però poi domani dobbiamo rifare il Napoli. Quando sei del Napoli devi fare tutti i giorni il Napoli, all'allenamento, nel modo di ragionare, nel modo di pensare. Se sei di questo livello qui lo devi far vedere anche nella reazione di quando vinci la partita in questa maniera qui. Cioè se ora ti lasci andare ad atteggiamenti che non sono corretti di persona che può vivere costantemente questa situazione, è segno che non sei di quel livello lì. Per cui lucidità. Io vado a lavorare il giorno organizzando bene quell'allenamento lì, punto. Poi è quella crescita lì. Tu se metti il passo a distanza corretta dall'altro piede, ben allineato nella direzione dove vuoi andare, poi il passo successivo ti viene facilmente. Non è che fa un balzo e vado fra un mese e dico sarò quello lì e riuscirò a vincere al Liverpool. È una cosa che viene conseguentemente. Stasera quelli, siccome stasera è facile partecipare, partecipano tutti e vengono tutti. La risposta era sempre, ragazzi la squadra sta bene. Quando si allenano bene, quando stanno bene, quando sono interessati tutti insieme, che sono uniti per darsi una mano, diventa più facile poi andare a fare un risultato, soprattutto se ti sei preparato per fare, in maniera corretta, per fare una grande prestazione. Poi sentiamo subito Raffaele. Pronto? Pronto. Sì, buonasera. Caro Angelo, buonasera. Sono Mario. Mario, buonasera, prego. Grazie per le immagini della colonna, come sempre, meravigliosa. Non ti nascondo, ieri con il gol di Signore, io ho 74 anni, mi sono scesi le lacrime. Sì, ci fosse stato il tuo stimatissimo collega Gianni Brera, non poteva che titolare a lettere cubiche stupefacente la prestazione del Napoli. State un po' d'audio, io non sento proprio. Stupefacente la prestazione del Napoli. Ma la cosa più importante, e penso che sarei d'accordo con me anche Raffaele, è la consapevolezza che adesso i giocatori hanno di se stessi. Questo è basilare. L'uscita di Fabian è un Zilischi ritrovato che, giocando un po' in dito, guarda che riesce a fare. E lo botta con due tocchi, come smista la palla. C'è una cosa meravigliosa. Un'orchestra, un'orchestra. E quel meretto, hai visto il riscatto quando uno prende consapevolezza e gioca. Sì, sì. Devo dire grazie al Presidente, ma soprattutto aggiungere allo scouting che hanno trovato dei giocatori meravigliosi, alla faccia di tutti i giuventini e milanesi. Grazie Mario, grazie della telefonata e del tuo intervento, Raffaele. Nella conferenza stampa mi è sembrato Spalletti mettere molta acqua sul fuoco. Angelo, di primo anch'io direbbe Magist che è un po', no? Perché dicevo, tu do una cosa a tutti esaltare, eccetera. Però lo capisco, lo capisco. E' una città complicata. Ma guarda, è una città complicata. Io non dico questa è una città complicata, un po' tutte le città, tutte le grandi piazze sono complicate. Credimi, io che vivo anche in altre piazze, so. Non puoi immaginare l'isterismo che si vive da altre parti. Anzi, forse noi abbiamo più quel senso di attaccamento, perché caratterialmente, storicamente, noi abbiamo questo modus agendio, no? Buon farino, andiamo avanti, no? Dopo l'intervento posso essere partita. Invece dalle altre parti no. Se però consideriamo che fino a quattro settimane fa, con il regime si sbaglia, no? Fino al 12-13 agosto, addirittura si diceva che il Presidente non poteva entrare in città, che era contestato, criticato, no? Da tutte e da tutti, a distanza di... È vero, attenzione, non è successo niente, perché insomma, niente è successo. Abbiamo fatto quattro giornate, cinque giornate di campionato, è una giornata di Champions, quindi siamo... Però se questo è il Napoli, io credo che questo sia il Napoli. Poi i risultati non sappiamo quali saranno, perché dobbiamo solo... Dovremmo avere solo una palla di vetro per esprimerci in tal senso. Per cui non lo sappiamo. Però il Napoli visto ieri, oggettivamente, Angelo, io non vedevo una partita così, perché il mister diceva che il Napoli deve fare il Napoli, questo è il Napoli. No, mister, perché io negli ultimi 15 anni, ma forse dei 20, 25 anni, non so, dall'epoca di Maradona, no? Un Napoli così, forse oggettivamente Angelo, forse non abbiamo manco visto allora. Cioè un Napoli che prova con questa fluidità, con questa... Semplicità. Io credimi, ieri, io credo che tutti siamo rimasti a bocca aperta. No, non mi venissero a dire però, cortesemente, per piacere, no, ma è il Liverpool. Ma è il Liverpool di chi? Che c'è una panchina di padre eterno. Cioè, ma no, Angelo, ma questa è una squadra di giocatori che valgono decine e decine e decine di mili di euro, che prendono l'ingaggio in Stato Stedici. È una delle squadre più forti al mondo. Ma qualcuno, siccome non sa che cavolo deve dire, dice, ah, però... No, niente, il Klopp ha chiesto scusa ai tifosi sotto la cura, ma poi l'ha fatta anche in conferenza. Poi lo sentiremo. Però, Raffaele, c'è uno spaccato che voglio un attimo far vedere. Andiamo sul computer. Si diceva ai napoletani, agguati, agli inglesi. Bene, arrestati due tifosi del Liverpool prima del match del Maradona, bloccati in cinque per Tafferugli, tutti ubriachi, hanno andato addosso alle forze dell'ordine. Nulla è successo in città. Questo è risposta al Klopp, che aveva detto, attenzione ai tifosi, agguati e quant'altro. Napoli, ancora una volta risposto alla grande. E chiudo questo argomento... Napoli, da fatti specie, vogliamo dire che, perché poi parliamoci chiaro, queste cose purtroppo accadono tra gruppi organizzati di varie tifoserie. E dobbiamo mettere in evidenza la maturità dei nostri gruppi organizzati, Angelo. Perché se probabilmente con la maturità... ragazzi, siccome alla fine noi rappresentiamo Napoli, perché pure questi ragazzi, no, devono responsabilizzarsi, cioè loro rappresentano Napoli, quando girano per il mondo e quando sono al sapone, girano e rappresentano Napoli. Ecco, ieri hanno dato una grande dimostrazione di civiltà. Cosa non è stato detto? Attenzione agli scimpi, alle rapine, ai furti. Non è successo niente. Allora, Raffaele, diamo anche una notizia importante sull'infortunio di Josiben. Sarà il calciatore fermo, diciamo così, non disponibile per 14 giorni. Auguriamo di poterlo recuperare per la sfida contro il Milan, ma vedremo che cosa succede. Intanto, seconda parte di Spalletti, ascoltiamolo sempre ai microfoni della nostra truppa. Purtroppo, quando si fa questo lavoro qui, si è sempre condizionati, ossia poi, da fare nostre quelle pressioni che subiscono gli altri, che vivono gli altri. perché se tu vuoi che il Napoli sia un Napoli bellissimo, non puoi pressare me. È una questione tua, il mio è un altro di lavoro. È quello di venire e fare le cose in maniera corretta. Noi di grandi partite ne abbiamo fatte anche l'anno scorso. Poi è chiaro che non si ha gli occhi addosso di tutti. Stasera tutti ti guardano, tutti si informano di quello che hai fatto, tutti ti ascoltano, ascoltano il rumore dei tacchetti e il rumore della palla, di come viaggia. Tutti guardano quelle che sono le tue decisioni che ti vai a prendere. Per cui fa più clamore, però noi delle buone partite le abbiamo sempre giocate, anche l'anno scorso. Non riconosciute, però la partita di stasera è una conseguenza delle grandi partite di giocate l'anno scorso. Perché se l'anno scorso non si faceva che il terzo posto non era niente, poi questa sera non tu ce l'avevi questa possibilità e questa occasione qui di far vedere a che livello sei. Per cui siamo in un momento dove abbiamo fatto due buone partite, si va a lavorare con più tranquillità, però poi si va a durare fatica ugualmente, si ha quell'atteggiamento corretto, non si diventa presuntuosi per una partita, non si diventa bambini per una partita, si diventa quelli che sono dei professionisti che debbono portare un messaggio dentro un campo da calcio che si chiama Diego Armando Maradona e con un pubblico esigente come quelli di stasera. Non è a rischio, sabato non la gioca di sicuro, per cui poi anche quelle successive qualcuna perché ha un problema muscolare. Una domanda è Sosimeno, ha risposto. Però Raffaele io apprezzo Spalletti perché oggi si poteva prendere il merito di aver battuto la finalista di Champions League dell'anno scorso alla grandissima, invece ha voluto tornare sul passato, ha voluto moderare i toni, ha voluto che gli altri parlassero di lui. Ricordiamo che fino a qualche settimana fa Spalletti se ne doveva andare e il Presidente doveva prendere la 16. Io ho domande di andare a Bari, se mi dite che strada devo fare ve ne sono grato. Raffaele? La 16, la 16. Ma poi torno, eh? Fai sempre la 16. A tornare. Angelo, guarda, lui l'ha visto e ha detto questo è il mio ruolo, questo è il mio compito, cioè il compito di piano piano, ponce ponce, no, ed è giusto, no, il ruolo del ponderatore, di lui che deve moderare, perché è chiaro, se avesse detto siamo la squadra, allora non si dava a quella squadra quel fame di continuare a vincere prima di spiegare quel gioco. Però io ribadisco, questo ieri non è solito, se hai visto, hai sentito i titoli anche dei videogiornali, dei telegiornali sportivi e non di tutta età. Napoli favoloso, non si può dire altro, Angelo. Poi chiaramente lui deve fare il suo ruolo, perché la sua, così ce lo pagano per questo, ma noi non ho, perché, insomma, oggettivamente se oggi dicessimo sì, un Napoli, insomma, saremo non credibili, Angelo, saremo dei fuori di testa, o saremmo quelli che per tutta una settimana, tutto un mese, cioè tutti che hanno continuato a dire sì, però questa cosa non va bene. Io ho detto, qualcuno ha detto, no, dopo una serata così fantastica, così entusiasta, sì, splendida, siccome non sapeva che dire, dice, sì, però il Napoli non vince lo scudetto, cioè, voglio dire, si raggiungono dei paradossi e delle cose veramente... Va bene, c'hanno le spalle di Cristallo. Andiamo al telefono ancora, pronto? Buonasera, Angelo. Buonasera. Buonasera. Ciao Nicola. Niente, è una bellissima partita. Togliendo ieri sera, togliendo il Napoli, io credo che il migliore in campo ieri sera sia stato l'arbitro. Volevo dire a tutti gli arbitri italiani di guardare la partita e di imparare come si arbitra. Volevo una vostra impressione. Grazie, ti rispondiamo subito. Raffaele, un flash sull'arbitro? L'arbitro è perfetto, benissimo, cioè, senza nessuna sbagliata. Non ha visto il rigore, però vedete come funziona. Dopo un minuto e mezzo andate a vedere il dato. Perché la tecnologia aiuta. Io credo che, forse mi permetto di dire delle volte la presunzione degli arbitri italiani, che il VAR, secondo me, perché il VAR lo vede come lo vediamo noi, Angelo. Se c'è un dubbio, il VAR... Vabbè, io allo stadio non avevo capito il rigore, il primo rigore, invece poi la mano l'aveva toccata. Però, ascoltami, il primo rigore, se tu ben ricordi, la televisione non ce l'ha fatto vedere. Cioè, la regia... Esatto. Ma se noi lo avessimo visto, avremmo anche noi detto il rigore. Per cui al VAR l'hanno visto, hanno consigliato all'arbitro di andarlo a rivedere e quello l'ha andato a vedere. Ma è bello perché il VAR internazionale funziona bene. Quello è il VAR nazionale, che ha un po' di problemi nel chiamare, nel sentire, nel vedere. Vabbè, c'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Sì, buonasera. Ciao, Angelo. Sono Aurelio da Milano. Aurelio, vai. Sì, velocissimo. E un abbraccio a Raffaele. Senti, Angelo, una domanda per te. Volevo un commento per te su Meret. Cosa ne pensavi? Della partita di ieri. Mentre invece a Raffaele volevo domandare questo. È inutile fare tant'era oggi. Volevo chiedere questo, ecco, per accreditare di più a questa mia soddisfazione di ieri. Ma dove iniziano e finiscono i meriti del Napoli e dove possono iniziare e finire i meriti del Liverpool? Ti faccio rispondere. Grazie, Aurelio. Allora, Raffaele, rispondi prima tu. Ricordo, e siamo anche in diretta su ISTV, canale 808 di Sky, ma anche in altre regioni, per dare la possibilità ai napoletani di seguire le cose di Napoli belle. Raffaele, rispondi allora alla domanda e poi rispondo io. Raffaele, rispondo subito a tutti quelli che hanno in qualche modo messo in evidenza questo lato. Noi non giocavamo, non abbiamo giocato con una squadra normale. Ieri abbiamo giocato con il Liverpool, con giocatori che ben conoscete, Firmino, Sala, eccetera, eccetera. Questi giocatori, se dovessimo minimizzare questa squadra, minimizzando la minimizzazione di questa squadra, e più vorrebbe a una buona squadra del campionato italiano. E quindi al cospetto di una buona squadra del campionato italiano, ieri noi non abbiamo fatto vedere palla. Io vedo anche i movimenti in campo. Il Napoli è entrato, concentrato, volitivo, tecnicamente ad un livello, atleticamente. Noi abbiamo corso, correvamo il doppio dei giocatori del Liverpool. E quindi cosa vogliamo minimizzare il Liverpool? Se poi dobbiamo minimizzare anche il Liverpool, allora è chiaro, non facciamo mai complimenti. Domani vinciamo con la sciocchezza, col Bayern Monaco, non si può ragionare così. E' giusta la tua analisi. Su un merito voglio dire invece che il ragazzo sta ricoverando fiducia in se stesso, i risultati si vedono, adesso lo vedo anche uscire sulle palle alte, sui calci d'angolo. Insomma, mi piace come sta lavorando. Voglio anche ricordare ieri, vabbè, tanti calciatori si potrebbero ricordare, ma la triangolazione di Anghi sa che se ne va in porta per me da scuola calcio e da mandare nelle scuole, perché è veramente una semplicità incredibile. Allora, terza parte di Spalletti e poi commentiamo con Raffaele e andiamo in pubblicità. Terza parte. Lui conosce bene la sua squadra e se lo dice lui io prendo sempre in considerazione quello che dice Klopp, perché per me è uno dei più grandi che c'è, è uno che ha fatto vedere come si gioca al calcio. Molti vanno a vedere le partite del Liverpool per tirar fuori delle clip da mettere sul banco di lavoro per le proprie squadre. Per cui io devo stare attento alla mia squadra e la mia squadra ha avuto un atteggiamento corretto anche in quei dieci minuti dove abbiamo perso il pallino di mano, dove abbiamo preso il gol. Abbiamo reagito nella maniera corretta. Abbiamo avuto delle possibilità non sfruttate che ci siamo preparati benissimo. Per cui ora la partita di sabato racconterà altre cose, perché quella contro il Lecce non abbiamo fatto il Napoli che dovevamo fare. E lì allora si vede se non sei di questo livello qui, quelle che sono le reazioni, le emotività, che subisci l'euforia dello stadio di stasera e non sai che quella è una cosa che deve avvenire per poter vestire questa maglia e per poter stare dentro il torneo più bello del mondo. È così, non è che è stato dopo, in un momento della partita, passaggio al portiere. Come loro venivano a ringhiarci un po' a mostrarci i denti e noi si tornavamo sempre al portiere e nessuno più la voleva. Perché tanto dice, siamo già stati bravi, i boati li abbiamo già sentiti, due gol li abbiamo fatti. Che dovevamo fare? Come che devi fare? La devi portare in fondo questa prestazione qui. Purtroppo succede ai calciatori che non sono di quel livello lì. E ora nel seguito andremo poi a fare altre considerazioni, fin da sabato. Già ci proiettiamo, già ci proiettiamo alla prossima gara, domani parla un'altra volta Spalletti in conferenza stampa e noi la sera insieme al collega Antonello Giannetti che sarà il nostro ospite. Commenteremo anche il da farsi. Raffaele, in conclusione, su Spalletti è sul pezzo, dai. Ti senti? Sì, sì, ti sento. Dico, questa parte di conferenza è molto importante. Non so se vuoi mandare prima la pubblicità. No, no, io voglio mandare... No, voglio un tuo commento su questa parte, Raffaele. Commento che lui ha detto delle cose... Sai, Spalletti parla tanto. A me piace anche sentirlo, a qualcuno no, a me piace sentirlo. Perché però delle volte un po' si incarta. Cioè lui a un certo punto, proprio nella parte finale adesso, ha detto... Se noi non siamo di quel livello lì... Io non lo so, lui chiaramente la squadra la vede mattina, mezzogiorno e sera, quindi voglio dire ha sicuramente più il polso della situazione. Però se fossi un giocatore del Napoli, no, mi sentirei... Mi sentirei un po' come una di minuzio. Cioè, sono o non sono? Chi è che può dire... La squadra di quest'anno, Angelo, noi ci siamo sentiti tante volte, come spesso facciamo, anche prima del... Ma chi è che può dire questa squadra dove può arrivare? Io, credimi, mentre gli altri anni lo sapevamo, quest'anno non lo sappiamo. Kim non lo conoscevamo, va bene. Olivera non lo conoscevamo. A parte quelli che sono arrivati, quest'anno noi abbiamo un Lobotka... L'anno scorso già era cresciuto. Quest'anno è cresciuto in maniera pazzesca. Angissara l'anno scorso è un buon livello, quest'anno è un livello pazzesco. Zilischi, idem. Osimen, voglio dire, che cosa potrà fare, non lo sappiamo. Questo Quaraskelia, pazzesco. Cioè, nessuno, secondo me, perdonami, nessuno sa questo Napoli realmente dove può arrivare e che Coppa può conquistare. Non lo sappiamo. E aggiungici anche un'altra cosa, Raffaele, che questa squadra, di cui si temeva l'inesperienza internazionale, beh, non hanno mai giocato in Champions, ma se ieri hanno giocato in Champions per la prima volta e hanno giocato così, non so dove può arrivare questa squadra. Bravo, quindi la dichiarazione di Spalletti non si ha un livello lì. Io chiaramente lì dibadisco, lì lo farà perché sa quello che fa, esatto, sa quello che fa. Però dall'esterno, Angelo, questa squadra, proprio anche alla luce di quello che ha avuto ieri, e non è un'esaltazione a voto. Noi non sappiamo realmente questi dove possono arrivare. Certo. Va bene, Raffaele, fermiamoci un attimo alla pubblicità, poi torniamo e ascolteremo Clop, che pure parla di cose interessanti. Eccoci collegati subito al telefono, un telespettatore pronto. Buonasera, ciao Angelo. Buonasera. Sono Aurelio Napoli. Vai Aurelio, buonasera. Buonasera a Dottor Tagliamonte. Ciao Aurelio. Allora, io sinceramente, io non me ne ho accorto dei due rigori, soprattutto del primo, non avevo visto il fallo di mano del difensore. Poi quando l'arbitro è stato chiamato dal VAR, hanno fatto vedere i replay, e si vede chiaramente che stende il braccio e devia il pallone e il portiere ci arriva e lo mette in calcio d'angolo. Il secondo è un po' più chiaro, chiaro nel senso che me ne ho accorto che qualcosa era successo. Poi hanno fatto vedere i replay e c'è proprio un pestone. E che vuoi dire adesso? L'abbiamo visto questo. Adesso che cosa volevi dire? Ma ci voleva un arbitro internazionale per dare due rigori al Napoli nel giro di dieci minuti. Evidentemente sì. Il VAR in Italia, quando giochi il Napoli è oscurato, si accende solamente quando deve dare qualche rigore contro il Napoli. Com'è possibile questo? Vabbè, ci sono diverse interpretazioni. Grazie, grazie intanto per aver posto questa accensione, questo tema che è un tema più profondo. Vedremo nel corso del campionato che succede. Torniamo ancora a Napoli-Liverpool. Conferenza di Klopp, ascoltiamolo. Lei si è andato dai tifosi a chiedere scusa a fine partite. Qual è stato il suo messaggio per i tifosi? Certo, è un volo molto lungo da Liverpool a Napoli, quindi capisco la delusione. È stata una serata molto deludente. Non è la prima volta stasera che parlo con i giornalisti e credo che i nostri problemi siano stati evidenti. Il Napoli ha giocato molto bene, noi abbiamo giocato molto male. Perché noi abbiamo giocato molto male? Potremmo anche trascurare un po' l'inizio dove abbiamo iniziato male con questo rigore che abbiamo concesso. Poco dopo c'è stato un altro rigore. E poi chiaramente una situazione del genere non è facile con un'atmosfera come questa. Ma i nostri problemi sono appunto il fatto che non abbiamo giocato. Non mi ricordo una sequenza di 60 secondi in cui non siamo mai riusciti a essere compatti. Eravamo troppo larghi. Non c'è mai stato un esempio di contropressing. Il centrocampo non era legato agli altri reparti della squadra. Quindi i problemi, ripeto, sono evidenti. Io so che i giocatori volevano fare una bella prestazione. Io so che i giocatori volevano fare le cose giuste. Ma alla fine non sono riusciti a fare le cose giuste. Quindi sta a me capire questi problemi. Assumo io la responsabilità. Ma ripeto, ho già parlato più volte con i giornalisti questa sera. Questo ha fatto sì che io non abbia avuto tempo per riflettere e pensare a questa sconfitta. Adesso devo rivedere la partita un'altra volta affinché io possa arrivare con il messaggio giusto da dare ai giocatori. Chiaramente non si ragiona molto subito dopo una partita. Tendenzialmente si reagisce e basta. Io ho detto quella frase. Quindi per certi versi sì, dobbiamo reinventarci perché ci sono delle basi che mancano in questo momento. È chiaro che questo è un periodo molto difficile per noi senza alcun dubbio. Però anche se non si gioca molto bene si può comunque difendere molto bene, difendere a alto livello. Noi purtroppo in questo momento siamo un po' a metà strada tra una buona prestazione e una buona prestazione dal punto di vista difensivo. Sicuramente l'inizio della partita non ci ha aiutato perché abbiamo concesso questo calcio di rigore dopo tre minuti e non so quando sia successo il secondo rigore ma credo dopo dieci minuti. Ripeto, noi siamo un po' in questa terra di nessuno in questo momento. C'è tanto lavoro da fare. Quando ho parlato di questa rinvenzione del nostro calcio non stavo dicendo che dobbiamo proporre un calcio nuovo. È chiaro che si vuole sempre migliorarsi ma sarebbe già qualcosa di buono se riuscissimo a giocare come abbiamo fatto negli anni passati. Non mi ricordo mai una partita con così poca compattezza e da tanto tempo che non ho visto una prestazione di questo genere da parte della mia squadra. Ripeto, il Napoli ha giocato molto bene ma noi abbiamo anche reso la vita molto facile al Napoli perché abbiamo perso il possesso palla questo poi ha scatenato un contropiede e non avremmo dovuto fare così. Alcune cose sono evidenti e che possiamo cambiare e dobbiamo cambiare altre cose devo ancora capire un po' la soluzione ma ripeto, mi servirebbe un po' di tempo pur di dire le cose giuste ai giocatori. Brevi, chiaro, succinto e convendivo se avrebbero detto a scuola Raffaele? Onesto, il grande allenatore si vede anche da queste cose. Riconoscere i limiti e apprezzare anche l'avversario che poi ha avuto anche parole. Assolutamente, bravo. Assolutamente. Sempre corretto. Attenzione, Klopp ha perso anche l'anno scorso due volte quando giocavamo in Champions. Però poi ha fatto la finale della Champions. Questo è merdi, no? Quindi non vizziamo. Se il Liverpool dovesse arrivare fino alla fine come ha fatto l'anno scorso purtroppo per loro non vincendo la Champions e poi diranno ma allora il Napoli è una squadra che vale perché ieri torno a ripetere qualcuno ha avuto il coraggio anche di minimizzare il Liverpool cioè non il Glasgow il Liverpool va bene Allora mentre possiamo accogliere ancora forse un paio di telefonate che stasera chiudiamo alle 20 per la programmazione che c'è se c'è mi fate sapere io ah c'è una telefonata? Pronto? Pronto? Buonasera 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 a lei e a tutti gli amonti Prego Buonasera Non voglio parlare della grande vittoria del nostro Napoli No Vorrei una spiegazione da voi Juventus Paris Saint Germain 5 tifosi della Juve denunciati e arrestati per cori razzisti Perché questo in Italia non succede? E sono stati tutti stati a Torino E seconda cosa Il signor Sassi Già era assai con gli ammi signori Tenevano poche considerazioni Ma non ho problemi Non ho colgito proprio più Se l'hanno fatta a Torino Ma anche tu signora Perché io ne ho nessuno O Massimo A sorriere Era arrivato Un allenatore E l'hanno fatta Di me da Roma Ha detto Io difendo la mia squadra Il mio presidente E i miei tifosi E quando E quando 2018 Spalletto Lo hai a crillare E la parte Vengia Va beh Sono cose passate Adesso guardiamo al futuro Sono cose Che possiamo fare? Non è più l'alliatore del Napoli Andasse per la sua strada Però scusami Angelo Posso dire una cosa? Grazie Tato Te rispondiamo Grazie Grazie No Visto che andiamo anche Nella capitale In Roma Queste sono cose perché Sai Sarri No ma sai che cosa succede? Poi vedi Angelo Tu non so C'è stato un comunicato Della curva nord della Lancia Sì Ho letto Ho letto Ragazzi Sarri deve stare attento A quello che dice Sarri deve stare attento A quello che dice Cioè Seguimi che poi Si facciano Tutte le denunce Possibili e immaginabili Nelle sedi competenti E va bene Ci sta Ed è giusto Perché ognuno poi Le cose le vede In casa propria A proprio modo Nessuno sta Opinando Discutendo questo Però quando tu fai Il capo popolo In quel modo Se fosse accaduto A Napoli Una cosa del gel E cioè Se la curva del Napoli La curva B O la curva A Avessero fatto Un comunicato Ricordiamolo Per quelli che non lo sanno Perché La gente di Avicis La casa Non sanno Il comunicato Della curva nord La quale Detto in poche Parole Ha detto Che Già da domenica Ci sarà Un clima Estremamente Teso E Nessuno Dovrà Permettersi Di fare Torti alla Lazio Perché già loro In altre circostanze Hanno messo in atto Atteggiamenti convincenti Proprio dal punto di vista Una bella minaccia Una bella minaccia Al calcio Al calcio Io adesso Non sto Stigmatizzando Il comunicato Dei tifosi Perché il tifoso Fa il tifoso E certo Ma Dichiarazioni Come quelle di Sardi Portano a queste estremizzazioni Che portano Legittimano Legittimano Certe idee Violente Allora Se domenica Scusami Se domenica Dovesse accadere qualcosa Perché Di chi è la colpa Di chi è la colpa Allora Chiudiamo Capitolo Napoli Liverpool Con le foto Del nostro grande Pietro Mosca Vediamo Beh queste erano Le foto di Pietro Mosca Che ci raccontavano Appunto Di questa grande Questa grande intesa Questo grande entusiasmo Tra i ragazzi Dobbiamo avere ancora Un'altra telefonata Accredito Pronto Pronto Sì buonasera Buonasera direttore Sono Luigi Vai Luigi Poco tempo oggi Poco tempo Allora Allora Tengo a correre in due zucchero Vai Ascoltate bene Questa partita Rimarrà nella storia Del calcio Napoli Come rimasti Che le dai Contra i Wentz E cose E io ringrazio Gli eroi Di questa partita Sono contento Ha fatto contenti I tifosi E Vi dico Questa parola Semplice Semplice Noi quest'anno Io sono ottimista Perché Proprio perché Ci sta la sosta Del discorso Del campionato mondiale Perché le dicono Le squadre di Spalletta Vanno bene agli inizi Noi dopo il campionato mondiale Siamo andate a votare agli inizi Quindi quest'anno Io sono ottimista Sì 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 Ma lo dice Voglio dire L'ultimo Proverbe E cosa Vi guardando ai cori E cosa Chi vuole male L'altro Può stare da porta Chi vuole il male Degli altri Il suo Sta dietro la porta Grazie Luigi Non si deve curare Il male degli altri Un abbraccio Luigi Grazie 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 A proposito di tifosi Ieri la truppa Era anche fuori allo stadio E ha realizzato Delle interviste Proprio fra i tifosi Vediamo Forza Napoli sempre Dobbiamo restare a Umli Abbiamo fatto una partita Stratosferica Ma con i piedi per terra Una squadra operaia E lottiamo anche per Vincere il campionato Dopo tanti anni 4-1 con Liverpool Te l'aspettavi? Sinceramente no Perché Liverpool È una squadra blasonata Una delle più importanti D'Europa Ma il Napoli di questa sera È stato veramente Da lasciarci senza parole Molto bella Molto bella Inaspettata Per la forza in campo Mi aspettavo Un Liverpool Più un Liverpool Invece il Napoli Ha fatto il Liverpool Chi le è piaciuto di più? Ravascheria E anche chissà Ma lo botto Che non ha disdegnato Una grande partita Grandissime prestazioni Di Napoli No 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 Sinceramente no È stata una bella partita E ci siamo molto divertiti Grande Napoli Sì anche io Un grandissimo Napoli Che ha giocato meglio Eh parecchia Noi gioca Zialischi Zialischi Per lei Per me è stata un'emozione Il gol del ciolito Perché comunque Essendo argentino E segnando nello Stato Il nostro caro Diego Maradona È stata una grande emozione Non me lo aspettavo Tachipirina e occhi Forza Napoli Forza Napoli Ragazzi Tachipirina e occhi Se questo è il sogno Non svegliateci Eh Beh Tachipirina e occhi È bellissima la fine Mal di testa e mal di pace Esatto Esatto Chissà poi Chi sarei di prendere Questa è medicina Comunque Sì sì Ma L'hai sentito L'ultima L'ultima dichiarazione Non svegliateci Ragazzi no Rimaniamo svegli Perché stiamo ancora a nulla Ci siamo tanto divertiti Ribadisco Ci siamo tanto divertiti Speriamo di continuare A divertirci E poi quello che verrà Chiaramente Per scaramanzia Non lo diciamo Però quello che verrà Vediamo Sì Allora Raffaele voglio vedere con te Adesso L'ironia Un po' Dei tifosi Del Dei tifosi del Napoli Che poi Veramente Quando il Napoli vince L'ironia È La genialità Guardate questa fotografia Foto di strisce Pedonali I ragazzi di iperfino Con quattro Valori in mano E attraverso la strada Che è via canaccio Insomma È veramente Carina questa fotografia Ma Dove arriva l'ingegno E anche nello scoprire Questo Guardate Cioè L'anagramma Di Champions League Gesù Ma che Napoli Ma Raffaele Ma ci rendiamo conto Che hanno scoperto qui Fantastici Diamo Giusto per Come notizia Se Avessero giocato Stasera La partita I Liverpool Avrebbe giocato Con lutto al braccio Perché La notizia di pochi minuti fa È morta la regina Elisabetta A 96 anni Dopo 70 anni di regno Quindi avrebbero giocato Con lutto Al braccio Per quanto riguarda Angelo L'ironia L'ironia È qualcosa che ci contraddistingue Da sempre E proprio perché Perché vedi Prendiamo anche il carcio Come tutto nella vita Con quel senso Di filosofia Che è solo la nostra E che molti non conoscono Perché spesso Hanno fatto passare Queste Nostre grandezze Caratteriali Di vivere Per poi dei difetti E quando la gente viene Tu lo sai Più di tutti gli altri Quando poi la gente da fuori Viene a Napoli E visita Napoli Dice Ma com'è possibile Tutti questi luoghi comuni E com'è 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 possibile E allora io dico che Anche quest'anno Il carcio Siccome Angelo Noi siamo una città Angita Da tutti Per quanto riguarda Il turismo Eccetera Anche il carcio Fa da vettore Fa da veicolatore Di queste immagini E io spero Che quest'anno Nessuno si faccia Prendere i crescenzielli No Da poi Come dire Ostruire O condizionare Il nostro cammino Speriamo che quest'anno Tutto sia regolare E vada per Il verso giusto Ma Se giochiamo Come abbiamo giocato ieri Credo che Poco Possano fare Anche quelli A cui non siamo Molto simpatici Esatto Tu stai controllando L'odizia della regina Giusto? No no Stai controllando Sì sì C'è Naturalmente C'è Soprattutto E su tutti i siti Quindi Non abbiamo Nessun Diciamo Difficoltà A dire che è morta La regina Isabetta A 96 anni Allora C'è un gesto bello Che si è verificato ieri A parte la presenza Di Lavezzi Di Cannavaro Di Mertens Accolti alla grandissima Dai tifosi Questo È un fatto bellissimo Perché Caro Raffaele Testimonia come l'affetto Dei napoletani Di Napoli Dei napoletani Sia Sia sempre Incondizionato Verso i calciatori Che hanno vestito E onorato La maglia azzurra Il pocio è uno di questi Così come Cannavaro E così come Cino Mertens Però Ieri allo stadio C'è stato un ragazzo Che ha esposto Un cartello Pro Quaraschelia Quaraschelia Deve averlo visto Questo cartello E Gli sarà rimasto Anche impresso Questo ragazzo A fine gara Ha aspettato L'auto di Quaraschelia Fu da San Paolo Gli ha rimostrato Il cartello E guardate Che è successo Ti amo 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 È bellissimo Raffaele Questi sono Quei gesti Che Ti fanno amare Ancora di più Questo sport E soprattutto Questi campioni Perché questo ragazzo È un campione Si vede Angelo Si vede subito Ma non Calcisticamente Perché Non lo devo dire io Ma tutti l'hanno visto Si vede subito Che è un ragazzo Con dei sentimenti Dei principi Un bravo ragazzo A me piace tantissimo A parte Il gioco Adietro qualcuno Ieri Mi metteva Quara Dona No Facendo un riferimento Anche un po' Troppo Troppo tosto Troppo alto Però Angelo È veramente Un bravo ragazzo Si vede che è un ragazzo Di sentimenti Vedi questa Questa immagine Ma ne ho viste anche altre In settimana Di lui che si ferma E si ferma a firmare Tutti gli autografi Fuori lì da Castelvolturno E sono questi quelli Che arrivano poi in alto Angelo Molto molto in alto Eh sì Perché poi Sai Una maglietta Poi Un bambino Che te la chiede Angelo Ieri c'erano tutti I presupposti Per una serata magica Sì No vedi anche Il gol di Simeone Entra da pochi minuti Lui è argentino E che dice Da 14 anni Sognavo Un gol in Champions E Lo segna In un Maradona Totalmente Pieno Cioè Vedo Guarda Ci sono state Tante di quelle cose Che tu giustamente Ne hai segnalate Tante La presenza di Mertens Di Lavezzi Mi sembrava Fettivamente Un sogno Ma al di là No Dell'andare Chissà dove Ma mi sembrava Un sogno Per tutto quello Che si è verificato Ieri Sento Raffaele In questa serie Di ringraziamenti Che stai facendo E queste evidenze Positive No Io voglio Ufficialmente Adesso qualcuno Dirà Eccolo qua Come al solito Il momento giusto Non dovevi dire Lo dico Voglio ringraziare Il presidente Aurelio De Laurentiis Perché a fine partita In un suo posto Ha ringraziato I tifosi Del Napoli Non solo per i soldi Che gli hanno portato Sicuramente Ma soprattutto Anche per il grandissimo Sostegno Presenza Caloroso Un caloroso tifo E lo ha voluto ringraziare Proprio specificatamente Questo significa Che forse Qualcosa Tra Nella testa del presidente Riferito a tutti i tifosi Sta cambiando Non trovi? Angelo Io dico una cosa Che è arrivato Il momento di Come dire Tra virgolette Di far la pace Sembra un po' estremo Io Conosco il presidente L'ho sempre detto Centomila volte Sono stato il primo A credere Il primo Organizzando Quella famosa Conferenza stampa Il primo a credere Nel progetto De Laurentiis E dico che Se lui Come dire Poi lui è uno Che conosce lo spettacolo Conosce il cinema Se lui Sa prendere Il pubblico Il popolo napoletano Nel senso Non dico in maniera Artata Se evita anche Certe uscite Secondo me Visto Vista le sue capacità Perché qui al di là Delle antipatiore Simpatie Ragazzi Questo è uno Che ha dimostrato Di saper fare E' inutile Che poi Ci facciamo prendere Dal E poi è inutile Che qualcuno dice A me Non mi ha mai dato niente E non voglio nulla Idem Ad altri Certo Anzi Posso documentare Dico documentare Che Angelo spesso Negli anni passati Ha avuto delle avversità Esatto E ci è stato messo fuori E ho dovuto Non so Intervenire Per farlo rientrare Quindi a dimostrazione Che Angelo Proprio E' l'ultima persona Che può Come dire Prendere qualche beneficio Da questo Napoli Però Dico Ha dimostrato E sta dimostrando Non lasciamo stare un corno Verifichiamo anche Quello che sta facendo E che il Napoli Che il Napoli Qualche società Anche blasonata Se la vedrà brutta Nei prossimi anni E nei prossimi mesi Perché quando I bilanci Vanno sempre Sempre E si cambiano Continuamente Proprietà Perché Qui ci sono Quelle famose Sette sorelle No Se ne sono così A sei Che cambiano Tranne la Lazio Che forse Una consiglia Tra le sette sorelle Ma le altre società Inter Milan La Juve Lasciamola stare Ma Queste Roma Queste hanno cambiato Tanti Tanti investitori In questi anni Ogni tanto Esce uno Entra un altro Addirittura In corso d'opera Con bilanci Pazzeschi Indebitamenti Pazzeschi E Un corno Non ce ne frega Noi abbiamo subito Il fallimento Sappiamo che cosa Significa Fallire E quindi Qui bisogna dare Un po' Di merdi Poi se I risultati Sono questi E' chiaro Potremmo dire Tante cose Mertens Eccetera Però ragazzi Oggi i risultati Parlano abbastanza chiari E' Inutile Bene Raffaele Grazie Grazie per essere stato Anche stasera con noi Ci ritroveremo lunedì Dopo la gara di sabato Con lo Spezia Allora analizzeremo E poi E' mercoledì E cioè il giorno dopo Poi si va a giocare A Glesco E quindi E quindi poi Parleremo anche Della trasferta di Glesco E naturalmente Avremo la conferenza stampa Poi anche da commentare Sempre di Spalletti Insomma conferenza di Spalletti Continua Perché anche domani sera Avremo la conferenza Pre gara Contro lo Spezia E sarà ospite L'ho detto Antonello Giannetti Qui con noi Grazie Raffaele Ci vediamo lunedì Ciao Ciao Grazie Un grazie ai nostri tecnici Tra Polino Scatozza Biscardi E D'Andrea Per avere anche oggi Ho temperato al meglio E datovi tutte le notizie Noi qui Per il Napoli Loro con le immagini Un lavoro di equip Anche la scheda iniziale Anche la scheda iniziale Più più azzura che c'è Vi auguro una buona serata E buona continuazione Con i nostri programmi Grazie a tutti i nostri programmi